ben tornati su freedom 2 ci sono 11 spiderini ecco perchè sto tremando ve li ricordate ma non è nella mappa 4 ok così va bene ah in un secondo già 60 vita non non far non non ah ecco sei molto abbastanza rischioso oh no abbiamo cinque madonna oh madonna ok bravi a far riferire tutti e due se continuate così prima o poi morite tutti e due grazie oh ovviamente il tasto perché sono stupido e niente ok io sono stupido ma sono più stupidi gli spider del cazzo ah uno è morto è una mappa troppo complicata anche becca di questo ok ora faccio aspetta ora faccio tipo questo movimento così è buono aspetta ora che sono distratti io che sono un genio troppo vicino e poi prendi qualcosa da loro ok sparo qua e ora visto che sono un genio ora che stanno tutti e due rivoltati lì lì ho visto uh ah avete visto ok spider i miei quando ma una è molto scicco ah no è molto veramente ma è vera sta cosa sto sognando no vabbè verissima 100% pandido ti morirai forse sarò più felice non caro uffa però è vero lo so però ok questo basta e mi dice non basta e mi dice ok io sono pronto ok zero sprecati very good ok hai visto spiderino che se stai fermo poi prendi quali cosa da me ok ok è uscito una cosa ora pure a voi per favore fate gli sceni come all'altro spiderino ok ora pazienza è quasi morto quindi io che non voglio sprecare niente uso questo ok pazienza sta morendo io e io che sono uno di quelli che non si ricorda niente è yes anche se sono sbadato eh saranno circa tre mesi che farò pratica con sta mappa ma ma io non ci riesco eh sono almeno un cinque volte ogni giorno visto che sta mappa è corta che cerco di fare i video ma non ci riesco eh ok questo è un buon moda ai come ok in realtà questo madonna ma questa è una cosa buona o non buona è un secolo che sto facendo sta mappa e muoio il tempo un secolo un secolo madonna madonna ma è un secolo che sto facendo sta mappa no ma no ma ok nudi oh tu è rinascotto avete visto che casino è un vero casino è un vero casino è un vero casino ok ok madonna ma no no ok gli ultimi quattro ragazzi non ci credo sono sono senza parole sono a bocca spalancata ok 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 ultimo dimmeri ma ma oh god oh 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 Sì, non ci credo! Yeee! Sì, wow! Ecco qua direi il tentativo, ecco qua! E niente, 4 minuti, perché è molto corto. Ok, è una mappa molto stressante, ma è tragica! È tragica, cioè, non tante persone fanno il tentativo che ho scoperto io. Ma in realtà io facevo quello che abbiamo fatto alla fine questa volta, che però non si può fare tutto il tempo. Si deve fare alla fine! Cristo Dio! Com'è difficile! Cristo Dio! Madonna mia! Poi, abbastanza persone muoiono in questa mappa, cioè, molto fastidio, molto stress! Poi eravamo anche a 5 bloccati con uno spiderino! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!